andiamo a verificare innanzitutto che l'arma sia scarica togliendo il caricatore e assicurandoci che la camera sia vuota andiamo poi a far combaciare i puntini su carrello e fusto premendo la leva dell'old open dalla parte destra del fusto la sfiliamo dalla parte sinistra per poi andare a togliere il carrello asportiamo poi l'asta guida molla e la molla la canna per il montaggio inseriamo nuovamente la canna l'asta guida molla e la molla facciamo combaciare le guide tra fusto e carrello i due puntini nuovamente tra carrello e fusto inseriamo la leva dell'old open